Il coro che non ti aspetti, operazione simpatia per la Guardia Nazionale Russa, il corpo di sicurezza istituito da Putin nel 2016 e che risponde direttamente al Presidente. In 120 si sono schierati in Piazza Rossa, stavolta non per garantire l'ordine pubblico, ma in uniforme da parata per intonare un classico del pop, Last Christmas, successo degli UN nel lontano 1984. I moscoviti, colti di sorpresa, hanno reagito divertiti davanti all'esilarante performance. Tra le guardie cantanti c'era anche il capo del coro, il generale Yelistyev, che sembra aver particolarmente gradito per il motivetto che dopo un paio di strofe già ti resta in mente. Il videoclip punta forse a far scordare la sfida a duello lanciata a settembre sui social dal capo di Roskvardia, il generale Zolotov, al dissidente Navalny. L'attivista aveva accusato il militare, già guardia del corpo di Putin, di essere corrotto. Un'onta per Zolotov, ferito nell'onore e pronto, parole sue, a ridurre Navalny in poltiglia, a trasformarlo in una bistecca al sangue. Uscito di prigione, il blogger anti-Putin rispose invitando il generale a un dibattito pubblico, ma Zolotov rifiutò. Chissà, magari adesso potrebbe tentare con un concorso canoro.